saluti catafratti e sibaritici a tutti voi il cielo è stellato sopra di me la legge morale dentro di pre ciò significa sesso divertimento e altre cose che non si possono dire perché non siamo non siamo ad amsterdam voglio parlarvi del mio film milano babilonia che può essere considerato un cortometraggio perché non dura molto è un film piacevole l'ho visto e mi ha divertito molto e sono contento è pieno di ironia è pieno di allegria e soprattutto rallegra al cento per cento chi lo vede ci sono io che sono il protagonista con una bella donna una bella ragazza che cavalca il mio cavallo mentre sono sdraiato su di un letto la ragazza è mora ai capelli lunghi neri è un fisico veramente sensuale e moderno e si può considerare una stupenda opera d'arte mobile trasuda veramente la tranquillità il film piacevole e può causare di pisciarsi sotto non dalla paura ma da la felicità e secondo la mia opinione può darsi pure che sbaglio ma non credo perché andrea di pre non sbaglia mai per la felicità Grazie a tutti.